benvenuti buonasera maurizio poli o buongiorno secondo l'orario che state vedendo questa puntata pilota che si chiama salute finanziaria sono maurizio poli e conduco questo programma di educazione finanziaria e ho il piacere per la prima puntata di avere ospite con me in studio l'amico posso dire l'amico perché mai ci conosciamo da anni ma ho il piacere di averlo qua con me l'avvocato danilo griffo benvenuto buongiorno grazie morizio benvenuto danilo grazie a te nel programma come vedi si chiama salute finanziaria e quale maggior opportunità di poter parlare della salute finanziaria anche delle imprese degli imprenditori sul territorio di avere qui il uno dei migliori esperti nel settore nel settore legale per quanto riguarda la salute finanziaria delle imprese come stanno le imprese come salute finanziaria dal suo punto di vista avvocato beh è un momento inevitabilmente difficile ma c'è un grande un grande desiderio di uscire fuori dal momento di crisi e di superare questo momento storico che sta mettendo un po dura prova le aziende del nostro tessuto commerciale imprenditoriale ma abbiamo delle buone speranze che le cose possono cambiare in futuro che siano migliori perché ci stiamo trascinando questa crisi dal 2009 siamo nel 2019 a un passo dal 2020 ormai sì ormai sì però mi preme ricordare e onore ricordare e ospitare qui vediamo qua davanti a noi questo strano simbolo questo oggetto sul tavolino particolare che è molto ambito da professionisti studi commercialisti studi avvocati insomma è un premio che viene dato all'eccellenza italiana nel settore dei professionisti in questo caso a giugno del 2019 come studio RG and partners siete stati premiati dalle fonti tv cosa è successo per essere stati premiati avere avuto questo ambitissimo premio? noi non ce lo aspettavamo per la verità siamo stati contattati dalla redazione della struttura delle fonti che ci avevano riferito di essere in finale in questa nomination e evidentemente per riteniamo per l'operato dell'anno trascorso che è stato comunque tutto a servizio delle imprese qualche cosa di buono evidentemente lo abbiamo fatto e siamo onorati di avere avuto questa riconoscenza ma come dico sempre un premio non è assolutamente nulla di sostanzioso il premio va dato più che altro ai nostri clienti che hanno con noi lottato e ci hanno dato la possibilità di aiutarli perché questo è il privilegio migliore quello di servire il tessuto imprenditoriale italiano quindi dal nord a sud e quindi servire le piccole e medie imprese che sono il motore del nostro paese e della nostra economia fondamentalmente giusto è un premio di eccellenza però eravate in una lista di altri studi di avvocati in tutta Italia è vero che i premi non devono essere una diciamo vantarsi mettersi queste medaglie però il premio gratifica l'operato fin qui svolto è piuttosto una conferma del fatto che magari stiamo lavorando benino e cerchiamo di lavorare sempre meglio per il futuro bene quindi il premio è stato dato ma gli avvocati di targhe di avvocati Brescia Milano provincia in tutta Italia c'è pieno di targhe fuori con su scritto avvocato ma ogni studio ha la sua specializzazione entra nel diritto italiano con le sue specialità e anche con delle soluzioni innovative per le imprese quindi voi siete stati premiati torno al premio anche perché avete applicato e hanno studiato i vostri casi quindi con sentenze giusto? anche con sentenze anche con articoli sui giornali specialistici eccetera ma con perché avete salvato aziende che erano sull'orlo del baratro del fallimento salvato imprenditori le loro case le loro situazioni anche dal punto di vista psicologico molto pesanti perché quando entri dentro questo diciamo questo turbinio di situazione l'avvocato si trasforma sì nell'aspetto tecnico ma anche dal punto di vista e diventa il confidente diventa l'aspetto psicologico diventa molto importante è vero? questo è verissimo l'attività più importante che noi possiamo porre in essere nell'interesse delle aziende è quella di ed è poi quello del quale ci occupiamo costantemente la ristrutturazione aziendale e la tutela del patrimonio dell'imprenditore cosa intende l'avvocato? un po' più alta la voce per piacere perché non ci sentono a casa salutiamo noi siamo anche sui social salutiamo le persone cosa vuol dire tutela del patrimonio? tutela del patrimonio vuol dire che l'imprenditore italiano che si mette in gioco è un imprenditore che sostanzialmente ancorché potesse poi realizzare potrà realizzare la sua compagine societaria sotto forma di società di capitali quindi rischiando formalmente solo con il patrimonio della società oggi come oggi è inevitabile che gli imprenditori sono chiamati a prestare le proprie garanzie fiduosore nei confronti delle banche quindi nel 99,9% dei casi un'impresa che fallisce dietro un'impresa che fallisce o che è in crisi vi è il patrimonio di un imprenditore che sta garantendo personalmente per cui il ragionamento non è solo l'obiettivo non è solo quello di salvare l'azienda e quindi di salvare posti di lavoro perché molto spesso questo è possibile se si interviene in maniera oculata e soprattutto nel più breve tempo possibile perché la tempestività è tutto ma un altro versante di questa crisi, l'effetto pernicioso che può provocare questa crisi è la perdita del patrimonio dell'imprenditore che ha garantito e quindi ci troviamo spesso, sempre più spesso purtroppo di fronte a casi di imprenditori che hanno dilapitato il loro patrimonio perché la loro azienda era in crisi Avvocato facciamo per chi ci sta ascoltando per rendere sempre più semplice in questo programma di salute finanziaria che è anche un programma di educazione finanziaria un esempio, un caso pratico senza fare nomi ovviamente nella privacy ovviamente è banalità mia detta ma lo diciamo anche per chi ci ascolta mi fa un piccolo case history, un piccolo caso che lei può far vedere tra virgolette a chi è a casa Beh, io potrei richiamare due esempi emblematici nel primo caso avevamo un'azienda e poi questo fu anche oggetto di un po' di commento della stampa nazionale all'epoca era agli inizi del 2019, non vorrei sbagliare un'impresa del Trentino Alto Adige che in realtà aveva già subito un ricorso di fallimento vi era già un'udienza prefallimentare fissata ma in realtà vi erano i numeri all'interno della società che era una società edile all'epoca anche di una certa dimensione vi erano i numeri per poter superare la crisi senza il fallimento per cui attraverso un meticoloso piano di ristrutturazione poi noi facciamo una procedura particolare che come il concordato si chiama ristrutturazione aziendale sempre in tribunale, una procedura concorsuale attraverso il ricorso, questo strumento noi riuscimmo a sviluppare perché poi c'erano le dirigenze, i numeri che davano questa sicurezza riuscimmo a sviluppare un piano di ristrutturazione che ha dato la possibilità all'impresa di non fallire ma soprattutto di non chiudere perché superato il momento di crisi e ristrutturato il debito ovviamente con delle falcidie che consentivano al creditore di avere quello che poteva avere nel più breve tempo possibile ma soprattutto al debitore di poter respirare e andare avanti oggi questa società è una società che lavora ancora ha ultimato i lavori per i quali poi si era incespicata all'inizio e questo aveva creato la crisi ma soprattutto è una società che non ha più licenziato che non ha più chiuso i battenti che continua a lavorare una notizia molto positiva questa è una notizia molto positiva fortunatamente casi del genere ne abbiamo avuti diversi nel corso del 2018 e del 2019 forse questi casi hanno un po' giocato la loro parte per quanto riguarda la nostra partecipazione poi la nostra onorificenza eccetera eccetera che per noi è un grosso onore per carità e invece un altro caso è il caso di una giovane coppia di imprenditori poi tra l'altro dovrebbe esserci proprio un articolo su Vero di gennaio ah ecco su che rivista? Vero di gennaio vero di gennaio poi un giornale di gossip sostanzialmente però fa anche cronaca rosa e questa potrebbe essere una cronaca rosa ma bene è una cosa positiva è una cosa a letto fine per cui si tratta del caso di due giovani imprenditori che noi abbiamo conosciuto sono rivolti a noi quando era già l'azienda era già cessata quindi c'erano già state i pignoramenti e quant'altro però attraverso una procedura di sovraindebitamento sul patrimonio personale del debitore vi è stata quindi l'imprenditore che aveva dato le garanzie vi è stata la possibilità di liberarlo per circa 400 mila euro e adesso è una giovane coppia di imprenditori che può riprogrammare il futuro e continuare a vivere quindi mi sta dicendo che all'interno delle pieghe del diritto italiano soprattutto quando riguarda il diritto commerciale voi avete trovato delle soluzioni innovative delle tecniche innovative no no ma in realtà noi non abbiamo trovato nulla basta leggere la legge ah bisogna leggere bisogna leggere questo è un passaggio fondamentale per ogni professionista no esiste nel nostro non è un passaggio indifferente non è assolutamente un passaggio indifferente perché molti non mi leggono le cose e fanno la differenza però il professionista dovrebbe per antonomasia studiare studiare e leggere esattamente perché questa parola professionista a volte la trovo anche un po' abusata ma andiamo avanti ipsed exit esatto per quanto riguarda gli strumenti a disposizione dei debitori noi non inventiamo nulla come dicevo basta leggere la norma esiste una legge già dal 2012 è la legge sul sovraindebitamento che è lo strumento formidabile più performante in questo settore che consente al debitore è che non ha la possibilità di pagare tutti i debiti che involontariamente ha accumulato ha la possibilità di esdebitarsi pagando quello in maniera molto sintetica quello che può con quello che ha ma poi dopo ritornare ad essere un soggetto produttivo all'interno della società quindi io con quello che ho posso andare a farmi un nuovo vestito imprenditoriale chiamiamolo così e ripartire vedi il sovraindebitamento è uguale alla procedura di concordato per le aziende solo che è stata parametrata sulle persone fisiche perché prima l'azienda poteva fallire e poi dopo chiudeva e quei debiti o si recuperavano oppure no sulla persona fisica questo non poteva accadere quindi la persona fisica poteva maturare sulle proprie spalle un debito che di anno in anno sarebbe cresciuto senza la possibilità di venirne mai fuori questo significa sostanzialmente per un debitore diventare un debitore professionista vita e non c'è più scampo non c'è scampo per il sistema perché vuol dire che dopo quell'imprenditore quel debitore non dichiarerà mai più quello che è in cassa cercherà di lavorare a nero e cercherà di campare nel sottobosco certo imprenditoriale imprenditoriale e dell'economia non più alla luce del sole non più alla luce del sole quindi questo è uno strumento che consente di ritornare a vivere ma soprattutto di ritornare ad essere un soggetto ufficiale e produttivo della società R.E.G. and Partners quindi è il nome del mio studio è il nome del suo studio quindi non c'è solo lei però devo confessare che si sta ascoltando che l'avvocato Danilo lo conoscevo con i capelli più corvini ultimamente lo trovo con qualche macchia grigia avvocato la pressione c'è adesso ho fatto una battuta ma l'avvocato è sottoposto a una pressione non indifferente ma c'è un rimedio c'è un rimedio la tintura la tintura brevissimo cosa che io non posso fare ma andando oltre avvocato abbiamo visto che l'aspetto la specializzazione del suo studio in diritto commerciale ma soprattutto per la tutela dell'imprenditore del suo patrimonio e della persona fisica possiamo fare un check up abbiamo qualche minuto avvocato dobbiamo concludere abbiamo questi due minuti voglio ma si può fare qualcosa prima un'analisi prima cioè l'avvocato può intervenire prima dando delle indicazioni noi abbiamo sviluppato e poi questo fu ripreso anche fu uno dei motivi poi del credo uno dei motivi della nostra premiazione all'epoca abbiamo sviluppato un modello di assistenza che chiamiamo CLI cioè consulenza legale integrata noi cerchiamo di assistere l'imprenditore nel tempo ordinario con un'assistenza appunto continua e giornaliera quando questo va fatto anche sull'impresa sana si evita la crisi si può evitare la crisi quando questo viene fatto sull'impresa già in crisi dà però uno strumento ci dà la possibilità anche come professionisti di strutturare un percorso che sia organico che sia organizzato e che sia composto dall'intervento di diversi professionisti per questo lo studio si chiama RG e Partners perché vi sono anche dei partners come dei commercialisti dei periti e quant'altro e quindi fornire un'assistenza globale per dipartimenti e multispecialistica ma soprattutto è molto costante nel tempo se si riesce a fare questo l'80% dei problemi che noi riscontriamo nelle aziende che si rivolgono a noi quando oramai la situazione è già nella fase patologica potrebbero essere evitati con una buona fase fisiologica quindi noi diciamo che in questo momento che ci rimane prima di salutarci che è bene consultare il legale prima deve essere il mio partner nella mia attività imprenditoriale assolutamente sì meglio nel famoso detto che dicevano prevenire che curare dopo curiamo anche dopo avvocato certo che curiamo anche dopo se riusciamo a prevenire se riusciamo a prevenire è anche meglio quindi la tutela patrimoniale la protezione del patrimonio del patrimonio imprenditoriale dei lavoratori che collaborano con l'imprenditore come è successo con l'interessante azienda edile di Bolzano che non ha licenziato ma ha mantenuto sul tessuto territoriale l'imprenditorialità e la loro esperienza quindi io volevo ringraziare la presenza nella prima puntata che abbiamo l'onore di aver avuto con me l'avvocato Danilo Griffo nella puntata salute finanziaria ed educazione finanziaria e ricordiamoci sempre che prevenire è meglio che curare alla prossima puntata e arrivederci a presto arrivederci